Un club che non ha bisogno di nessun genere di presentazione, è il club Alfa Romeo più grande e più organizzato d'Europa, sicuramente. Noi abbiamo il piacere di partecipare al mondo da quattro anni e invito Gerich Mopak e Theo Meister a venire e ritirare un premio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.